Eccoci, le macchine della polizia che gareggiano con le macchine del ladro, la macchina blu della polizia gareggia con la macchina rossa, la macchina bianca della polizia gareggia con la macchina rossa scura, la macchina grigia e nera della polizia gareggia con la macchina arancione la macchina blu della polizia gareggia con la macchina bianca la macchina grigia della polizia gareggia con la macchina blu allora il poliziotto è il papà il ladro fa Liam vediamo che vince tutte queste gare sono cinque gare ecco Liam a voi bambini ok Liam tiene le macchina del ladro dai Liam mettile su sul garage no no qua quello che va su e giù piano piano vai mettile metti la polizia e sopra il ladro no lì vicino attaccato attaccato alla polizia attaccato vicino ecco sopra ma Liam da poi vedete questo è un gencino anche questo è grande il più grande sono partite due e lì c'è scritto qui puoi metterne altre due eh però hai scambiato le macchine con la razza gareggia con la macchina grigia della polizia una cosa qui si tre due uno via wow la macchina blu è stata eliminata la polizia ha vinto la gara una zero per il papà ah 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 oh mio dio si è rabaltato il ladro cosa è successo? ha bevuto troppa coca cola? tra le due e una via ancora il ladro è stato eliminato ha vinto ancora la polizia 2 a 0 per il papà per questa questa vai prendi quelle due questa è la migliore l'arancione è davanti è in testa la polizia è dietro però nessuna dei due è eliminata la gara si ripete perché non erano attivi le trappole non erano attive le macchine stanno salendo piano piano c'è un uomo ragno c'è un uomo ragno che sta assistendo alla partita guardate 1 a 0 per il papà 2 a 0 per il papà vedete che le macchine del polizia sono dritte e quelle del ladro rovesciate ecco la macchina sta salendo piano piano intanto salutiamo Spider-Man ciao Spider-Man ti stai divertendo? sì tantissimo anche io sto divertendo bene siamo contenti ecco siamo quasi arrivati in alto oh c'è un altro Spider-Man ciao Spider-Man ah tu guardi se la gara la partenza è fatta bene giusto? sì bravissimo controlla bene che il ladro non bara guarda che la macchina arancione è pronta come è già partita ha barato ha barato ha barato non è giusto però vediamo se la polizia si salva lo stesso eccola no la polizia è stata eliminata però questa partita è stata barata 2 a 1 per Liam 2 a 1 per Liam la macchina del ladro dritta della polizia è storta come è game over ehi dai vai dove le metti lì? ok ecco è arrivata la macchina del ladro guardate che bella che potente che è adesso è arrivata la polizia eccola 3 a 1 via sono partite sono partite sono già giù ah si ripete nessuno di due è stato eliminato vai Liam portali su te prendili vanno su da sole vuoi aspettare aspettiamo che vanno su da sole ok ecco siamo quasi arrivati in alto ha perso piano il ladro è sempre davanti la polizia è dietro la sta lo sta inseguendo inseguendo ecco che sbuca fuori il ladro via adesso sbuca fuori la polizia e la gara parte via e vai il ladro eliminato la polizia ha vinto la polizia ha vinto 3 a 1 per il papà game over game over il papà ha vinto ciao spider man puoi far vedere le macchine del vincitore ecco la polizia è ladro rovesciato la seconda della polizia è ladro rovesciato la terza macchina della polizia è ladro rovesciato e per il ladro solo una vittoria 3 a 1 vince la polizia ciao voglio fare anche l'ultima gara via vuole partecipare anche con l'ultima macchina aspetta che le vediamo la macchina della polizia è la blu e quella del ladro è quella bianca 3 2 1 via wow quella bianca è velocissima oh mio dio la polizia è stata eliminata ha vinto il ladro quindi è finito 3 a 2 3 a 2 per la polizia la vittoria c'è grazie spider man della vittoria iscriviti al canale lì dì grazie tanno vato thanks ciao